C'è raga comunque questo videogioco è veramente una perdita di tempo Bonjour todos amigos e bentornati su Tamago Allora oggi questo video è molto bello perché alla fine di questo video accadrà qualcosa che non vi siete mai immaginati Già allora ragazzi oggi io sono qui con voi per registrare questo video di Tamago Già come sapete alla fine o adesso da adesso in poi alla fine di ogni video di Tamago farò qualche screenshot che metterò alla fine Perché mi piace sarà la caratteristica di Tamago Va bene? Quindi ogni tanto farò qualche screenshot da mettere sarà la nostra caratteristica Che caratteristicherà cosa cavolo ho detto? Tamago Quindi muoviamoci Allora Tamago come sapete tutti è un videogioco molto stupido Perché tu devi stare così a spingere l'uovo per un'ora Ora arriviamo tipo a 970 E praticamente dopo accadrà qualcosa Quindi io mi sto spiegando Anche perché è tanto il numero Screenshot Anche se Mannaccia Ehm Sì raga Eh già Quindi ci dobbiamo sbregare Perché Già Screenshot Ok Andiamo Screenshot Ok Vai così Questo gioco è veramente uno spaccadita perché devi stare a cliccare tutto il tempo Vedete io sto cercando di continuare di andare veloce Perché ovviamente è terribile questo Io non ve lo consiglio affatto È appunto un gioco orribile Perché tu devi stare a spingere questo uovo All'infinito raga Cioè questo uovo non lo apriamo mai Se solo Qualcuno nei commenti mi spiegasse come si chiama L'applicazione Raga perché se qualcuno mi spiega come si chiama l'applicazione Io la scarico e poi faccio un video a parte Dove faccio vedere Io che appunto Finalmente apriamo un uovo Quindi raga se la volete vedere Poi ditemelo nei commenti Se non me la cercherò da solo E ora Ehm Appunto Vi chiedevate qual è la cosa strana di questo video E che Che sono qui Nella natura I miei amici sono rimasti indietro perché sono stupidi E non vogliono Che vuole E non vogliono che Non vogliono venire con me Ma Mannaccia a loro E quindi io sono da solo Ad avventurarmi Nella natura Per scappare da Tamago E da quello che sta dentro Tamago Perché prima Ho preso un uovo L'ho sbattuto a terra Ho detto Ho spaccato Tamago E quindi Già E niente Io Che non so cosa cazzo sto facendo E basta Ciao raga Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti